Questa notte si torna all'ora solare. Per convenzione alle tre bisognerà spostare indietro le lancette sulle due, risparmieremo quindi un'ora di sonno, anche se spenderemo di più in termini di consumo di energia elettrica. L'ora legale consente infatti ogni anno notevoli risparmi in termini di energie e di inquinamento dell'aria. Il ritorno all'ora solare rappresenta anche il momento che più di ogni altro ci ricorda il passaggio dalla bella stagione all'inverno. Il cambio dell'ora viene sempre in piena notte per arricare il minor disagio possibile, in particolare al sistema dei trasporti. In Italia l'ora legale fu introdotta per la prima volta al 3 giugno del 1916 e rimase in uso fino al 1920. Nei decenni successivi questa prassi subì innumerevoli modifiche ed è solo dal 1996 che viene adottata stabilmente, mentre dal 1980 si applica a tutta la comunità europea. In sostanza domani la sveglia suonerà un'ora dopo rispetto ad oggi ed il pomeriggio sarà meno luminoso. Torneremo all'ora legale il 30 marzo del prossimo anno.